Nuovo sit-in davanti al cantiere SNAM di Casepente ad annunciarlo in una nota ai Comitari Cittadini per l'Ambiente che vanno avanti con la battaglia. La centrale di compressione, un pezzo del metanodotto, linea adriatica, sono stati inseriti dalla Commissione Europea del PNRR su proposta del governo Meloni. Un'ottima notizia per la SNAM e l'Eniman, nello stesso tempo una pessima notizia per i cittadini che si vedranno costretti a pagare attraverso la bolletta energetica due opere totalmente inutili. Sono passati vent'anni da quando è stato concepito il progetto della SNAM. Nel 2004 si pensava che i consumi di gas dovessero scendere sensibilmente e che quindi le infrastrutture metanifere fossero insufficienti, ma la realtà ha smentito queste previsioni. Per questo per l'8 dicembre alle 11 a Casepente davanti al cantiere SNAM per la difesa dei diritti del nostro territorio, continuano i comitati per la democrazia e per la legalità, si svolgerà un sit-in.